Negli anni cinquanta e sessanta, come ricordo da boccia, Rick si giocava tanto con i pirli, in piazza andava in strade, che era la terra un po' pugatura e si tirava il pirlo. L'obiettivo del giocolo era tenere l'ompea a colpi de frusta e vinceva perché lo fea star su de pu. Il pirlo non mi ricordo, ma probabilmente li fea il Giorgio Giovanet che aveva il tornio, era il posto dove si poteva trovarli e poi si metteva dentro un ciodo sulla punta e la corda era la solita gaveta, magari se la intortolava su per farla un pochettino più robusta da usarla come frusta e basta tutto qui. Il pirlo non mi ricordo di più Grazie.